Buongiorno ragazzi, come state? Oggi volevo trattare un problema per quanto riguarda la nuova timeline in quanto molti utenti mi stanno subissando di richieste su come ritornare alla nuova timeline Il problema è che essendo una modifica grafica che verrà applicata totalmente entro settimana prossima Non è modificabile essendo una scelta fatta da Zuckerberg e dal suo team Le modifiche grafiche generalmente non cambiano Nel senso, se vengono scelte di essere cambiate non ci si può fare niente Quindi mi spiace per coloro che sono contrari alla nuova grafica o comunque non gli sta bene avere una privacy in cui tutti possono accedere anche all'anno più indietro Purtroppo è così, quindi o vi cancellate da Facebook e andate su altri social network tipo Twitter o Google Plus che è nuovo o altrimenti accettate il problema anche se purtroppo comporta questi sacrifici Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti, Francesco